ciao a tutti ragazzi io sono diego leveric in arte edicole grevi questo video di presentazione del lute concert il programma di questo progetto cd sono le musiche di Bach dove eseguirò io do solo una toccata il trio di Hayden per violoncello violino e il violino che è stato arrangiato e tre concerti di Antonio Vivaldi per luto e orchestra e due di due fratelli di Sigismund Weiss e Silvius Leopold Weiss uno di questi concerti è inedito Lute Concerts è un progetto dove il protagonista è questo strumento stranissimo ovvero il liuto barocco che ha 24 corde e tutte le corde sono in budello il gruppo è composto da due violini Gian Andrea Guerra e Gabriele Politi violini barocchi fagotto barocco Giovanni Graziadio sul violoncello barocco c'è Rebecca Ferri e su due altri liuti ovvero chitarra barocca e l'arcigliuto c'è Francesco Tomasi e poi l'organetto e la regia del cd sarà fatto da Enrico Bissolo il punto centrale di questo progetto è il basso continuo ho deciso di arricchire gli strumenti del basso continuo per poter migliorare la gamma timbrica del progetto utilizzando improvvisazioni ed abilimenti dell'epoca barocca chi ascolta la musica barocca saprà riconoscere in questo progetto cura ed edizione cura ed edizione nella scelta di ogni dettaglio ma anche la freschezza e la spontaneità della musica contemporanea grazie a tutti